mi sento male il futuro è nero e non è grigio e nero e nero con quello che ancora non si allena perché il suo infortunio dipende dal vertice che andrà a fare marotta non è che lo sa adesso si è infortunato il suo infortunio dipende da quell'incontro hai capito no sto male però se facciamo questo incontro e le cose vanno come devono andare sto bene perisic che ormai non è un non è un giocatore da parecchio tempo comunque ha un problema muscolare non so di che entità ma rischia rischia il derby vengo la sappiamo sappiamo bene martinez martin che mi ci gioco le balle me le gioco me le gioco che si farà ammonire anche contro la spalla mi ci gioco quello che volete vi faccio vedere che andremo a giocare il derby non solo il derby ma anche la partita di ritorno col francoforte perché abbiamo cioè adesso ti dice pazzesco ti giochi le partite più importanti della stagione senza senza nessun sito i giocatori migliori quelli che dovevano essere i giocatori migliori sulla carta vengo la persici caro non ci giochi perché perché ripeto martinez si farà ammonire si farà ammonire e se non c'è persici se non c'è carico cioè io non voglio giocare con politano e ranocchia punta politano o ranocchia punta tutte e due insieme no preferisco veramente non guardarla forse quella partita per la vergogna per la vergogna non lo so non lo so cioè una squadra come l'inter la squadra come l'inter poi nonostante ciò vedi una partita di merda ieri nel secondo tempo perché nel secondo tempo l'inter la prestazione è stata veramente arrasa arrasentato arrasentato lo schifo più totale raga parliamoci chiaro ma nel secondo tempo non hai costruito un'azione e maneschio tu sei un tifoso occasionale no dobbiamo stare con dobbiamo essere felici dobbiamo essere questo dobbiamo essere quel raga ma dove vuoi andare se giochi così e con questi uomini qua dove vuoi andare ma dove vuoi andare no facciamo come come i romanisti no come i romanisti che col frosi non hanno vinto una gara ma veramente veramente lurida tutti contenti e poi giochi col porto bobo 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 perché raga passa tutto dalla passa tutto dalle prestazioni che fai ma se fai schifo ma se fai ridere ma veramente poi pretendi di poter arrivare avanti ma dove vuoi arrivare ma dove vuoi arrivare se col cagliari fai delle figure che proprio non ne parliamo e ma doveva essere spuso cigarrino ma che doveva essere spulso ma lascia stare sì va bene ma non risolvi nulla perché passa passa tutto dalle prestazioni che fai e queste prestazioni non ci possono fare esaltare non ci possono far dormire sogni tranquilli non esiste proprio si sosteniamo certo che sosteniamo siamo qua siamo qua nonostante la vergogna la vergogna dell'esserci in questo momento a parlare qua perché quello che sta succedendo in casa interna una vergogna assoluta nonostante questo sono qua più sostegno di così che voglio fare voglio andare a giocare io dico spalletti anziché facciamo un po di volontariato chi se la sente chi se la sente va a giocare con la spalla chi se la sente va a giocare il derby chi se la sente va a giocare col franco vogliamo fare così facciamo volontariato per per amor proprio io credo che quelli guadagnano milioni e milioni di soldi dovrebbero dovrebbero impegnarsi un po tutti per il bene della squadra penso non credo di dire una bagionata penso però se dobbiamo star tranquilli stiamo tranquilli se dobbiamo star tranquilli per per far sembrare che tutto è a posto si facciamo ciao ciao perché no perché non facciamo ma dove vogliamo andare da dove vogliamo andare è la champions è la champions il piazzamento champions non è un miraggio solo perché veramente hai beccato una lazio che quest'anno tra infortuni quello che voi poi giocatori che veramente dovevano rendere non ci sono mi dico che c'è luis alberto per esempio hai beccato una roma che cioè sta messa peggio di noi fortunatamente in quanto cambio allenatore cambio del direttore sportivo ti fa capire come stanno messi e perché un milano che a detta di tutto all'inizio anno era una squadraccia che adesso magicamente è cambiato tutto ma stessi milanisti ad inizio anno figlio mio si mettevano i mani alle ai capelli e perciò si è ancora lì perché non c'è non c'è un un livello alto se ci fosse stato un livello dove dove stavi ma dove stavi dove stavi nella serie nella serie a di un tempo dove sta altro che quarto posto il quarto posto a classifica inversa il quarto posto ma dove stavi dobbiamo star contenti cioè quello che ancora una volta non si non si va ad allenare perché sente dolore ho sentito l'intervista di spalletti dove proprio lo diceva sì c'è stato questo incontro no io sento dolore io così cola non me la sento perché sento ma quale dolore ma non lo so 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 chi me lo doveva dire a me che che subivamo l'ennesima vergogna l'ennesima vergogna noi tifosi quest'anno l'ennesima vergogna nonostante ciò tutti i tifosi interisti tutti una parte dei tifosi interisti cioè dice che dovremmo essere anche contenti perché abbiamo giocato bene col francoforte allora siamo contenti va bene fatemi sapere cosa ne pensate commentate la e cat iscrivetevi al canale io vi saluto con il solito abbraccio di neschio e amala se comunque dovunque perché noi siamo le fc internazionale di milano se ancora non l'hai fatto lascia un like alla mia pagina facebook iscriviti al canale youtube e seguimi su instagram